La storia di oggi potrebbe aprirsi con una persona nata in Nigeria, suonatore di Kongas. Frequenta i locali di Liverpool ai tempi dei Beatles, conosce Paul McCartney, si incontrano spesso ai concerti di sera quando si fa tardi. Si chiama Jimmy Scott. Nessuno sa bene quanti anni abbia e nemmeno lui ci tiene molto a farlo sapere. Saluta invece tutti con una frase che diventa anche il nome del gruppo in cui suona, Obladi Oblada. A questa ci aggiunge Bra, contrazione di Brother. Saluta spesso anche McCartney in quel buffo modo. McCartney rilasciò un'intervista nella quale sostiene che è un modo di dire del linguaggio Yoruba, una lingua parlata dall'etnia degli Yoruba. L'informazione detta e comunicata ad un'altra persona che non detiene la chiave e la conoscenza per provare che ciò che ha ricevuto sia vero o meno diventa vera. Altri copiano la notizia e la incollano. E si arriva alle pagine di Wikipedia che continuano a perpetrare questa notizia. Obladi Oblada sarebbe un modo per dire con il linguaggio Yoruba la frase La vita continua, la vita va avanti, life goes on. Se conoscete qualcuno che parla Yoruba, sappiate che non ha mai sentito pronunciare la formula Obladi Oblada se non nella canzone dei Beatles. Resta da chiedersi quindi perché Jimmy Scott usasse quella frase. E sappiamo per certo che fosse sua. Addirittura, come dicevamo, ha avuto un gruppo con quel nome. Se Scott fosse stato più maligno avrebbe insegnato una parolaccia a McCartney e lui l'avrebbe inserita in una delle canzoni più celebri del mondo. Un duo francese-cubano, due sorelle, le IBEI, da non confondersi con il portale di vendita, utilizzano spesso termini nel linguaggio Yoruba. Barasu Havo è la forza vitale e ascoltarla in duetto con questa reminescenza di un'antica melodia Yoruba ci dà almeno un'idea di quale sia la lingua Yoruba. Che Obladi Oblada fosse o meno in linguaggio Yoruba, io propendo per la seconda ipotesi, era comunque una locuzione pronunciata da Jimmy Scott. Jimmy viene chiamato a suonare i bongo nella canzone stessa. Si dice che abbia suonato anche le congas su Beggar's Banquet dei Rolling Stones. Ha un omonimo che è stato un cantante jazz e molto spesso le biografie sommarie su internet tendono ad accomunare la discografia dell'uno e dell'altro. Quello che sappiamo di lui è ciò che avviene dopo il successo di Obladi Oblada nella sua vita. Jimmy Scott avrebbe chiesto a Paul McCartney dei diritti per la canzone. McCartney non la consente. In fondo, gli dice, è un modo di dire, non ha mai partecipato alla stesura del brano. Scott finisce in carcere per non aver pagato gli alimenti alla moglie. Di Scott non conosciamo l'età precisa, ma nemmeno il numero di mogli e figli che avrebbe avuto. Scott chiede di poter chiamare dal carcere il vecchio amico Macca. Lui lo tirerà fuori dal carcere pagando la cauzione e chiedendogli in cambio di non recriminare più diritti verso Obladi Oblada. Lo ritroviamo nelle parole del cantante dei Toaster, un gruppo ska americano che ebbe modo di suonare con lui. Ci dice che la sua origine fosse ganese o nigeriana, dipendeva dal giorno in cui glielo si chiedeva. Un giorno in un locale cade un vecchio amplificatore Vox e Scott ebbe a dire che dopo la frantumazione dell'oggetto la cosa più vecchia rimasta all'interno del locale era lui stesso. Nell'83 si unì ai Badmanners, era entrato nel giro dello ska. Due anni prima i Badmanners avevano mostrato le terga al pubblico del Festival di Sanremo. Jimmy Scott, l'inventore del modo di dire Obladi Oblada, si unì al gruppo fino al 1986. Al ritorno da un concerto in America, fu fermato per un controllo al freddo a Londra. Lo tennero due ore, si ammalò e morì di polmonite. Partecipò alle registrazioni del disco del 1985 dei Badmanners, ovvero è accreditato, Mental Notes. Lo sentiamo alle percursioni in un brano come Destination Unknown. Obladi Oblada si porta dietro la fama di essere una delle canzoni più brutte dei Beatles. Ogni volta che qualcuno vuole marcare la differenza tra se stesso e il popolare attraverso i Beatles, finisce per affossare questa canzone, che è invece un gioiello per moltissimi motivi che non vengono mai portati esattamente alla luce per una certa pigrizia intellettualoide. Perché, immagino sia questo, il processo mentale di chi vuole farsi detrattore del brano, difendere un brano che si difende benissimo da solo dal momento che la sua popolarità è talmente elevata che anche i bambini di tutto il mondo finiscono per impararla? Comincio io a rispondere, ho alzato la mano. Intanto, è la prima canzone di sempre che vuole intenzionalmente omaggiare il reggae all'interno di ciò che è stata definita popular music. Sì, perché Obladi Oblada è un altro degli innumerevoli esperimenti dei Beatles perfettamente riusciti e in totale anticipo sui tempi. La musica giamaicana non era così largamente conosciuta prima del finire degli anni 60. Contribuì un singolo del 1968 di Desmond Decker and the Aces, 007, 007, A Shanty Town, che entrò nella top 15 inglese. I due protagonisti di Obladi Oblada si chiamano Desmond e Molly. Non è un caso che nell'inventarsi una storia con un sfondo musicale giamaicano o di quello che si considerava tale, uno dei due protagonisti si chiamasse proprio con un nome molto comune in Giamaica che era lo stesso di un ormai conosciuto musicista giamaicano in Inghilterra, Desmond Decker. McCartney comincia a cantare Obladi Oblada proprio in India durante la parentesi meditativa dal Maharishi. Obladi Oblada entrerà all'interno del White Album, sarà la quarta canzone. Contribuì alla diffusione di quel disco strano dei Beatles. Sembrerebbe staccata rispetto all'album, invece ne testimonia la grandezza eterogenea. McCartney ne aveva affiutato il potenziale come singolo, probabilmente. Tutti gli altri Beatles sembravano però inseguire vie più tortuose, soluzioni più difficili. Obladi Oblada è la testimonianza di un aspetto nella vita dei Beatles sul quale non si è mai riflettuto a lungo, a mio modesto parere. La meditazione trascendentale, che dovrebbe essere il fulcro per la completa negazione del proprio ego, sortisce nei Beatles l'effetto completamente opposto. Prima di questa, della meditazione, i Beatles sono un gruppo. Dall'India ne usciranno invece pieni di personalismi e non saranno più quel meccanismo orologeria in cui ciascuno è funzionale agli altri. Obladi Oblada ne è la testimonianza perfetta, McCartney la leviga, ne registra con gli altri una versione un po' più lente di quella che conosciamo, con le chitarre acustiche, meravigliosa se la si sente ora. Entra in studio e c'è qualcosa che non lo convince mai appieno. Passa più giorni su quel brano, mentre gli altri, che lo reputano una specie di divertissement, non riescono a prendere sul serio questo brano che genialmente Lennon definì a posteriori A Granny Shit of Paul. La Granny Smith è una mela, Lennon, giocando come al solito con le parole, riesce ad offendere con due parole la Apple, Paul McCartney e il suo gusto retro nell'approcciare questa canzone. Forse McCartney non ha spiegato bene agli altri che lui la vorrebbe più giamaicana. In effetti, se si sentono le registrazioni con le quali si giunge alla possibilità di un miraggio, ma che non lo soddisfano ancora, Ringo Starr suona un ritmo in quattro quarti classico, manca effettivamente qualcosa, ma gli altri si sono stufati del suo protagonismo, hanno il loro da mettere avanti, con buona pace, della meditazione trascendentale. I quattro raggiungono un picco di litigiosità talmente pronunciato che Jeff Emmerich, l'assistente che aveva sempre lavorato con loro, lascia lo studio, e i Beatles. Volano insulti da McCartney verso George Martin. In tutti quegli anni non era mai successo. Lennon sparisce, Starr si rieca a incidere handclaps, batti mani, con Solomon Burke che stava registrando in quegli studi. Lennon un giorno entra, mentre i tre stanno ragionando ancora sul brano, esausti, e indiavolato e mentalmente su di giri. Scende le scale e urlando comincia a gridare, che non hanno capito niente. Il brano si suona così, si mette al piano e attacca martellando le mani sulla tastiera in maniera nervosissima o bladi o blada in una versione inedita, attacco geniale compreso. Gli altri gli vanno dietro e nasce il brano così come lo conosciamo. Il pianoforte di Lennon ha un pregio, esalta in maniera formidabile il levare. I quattro si mettono subito al lavoro. Dopo una registrazione in cui tutto sembra quadrare arriva il miracolo. Harrison, Lennon e McCartney si mettono intorno al microfono e cominciano a cantare il brano. Sembrano tornati bambini, la buriana è passata. McCartney canta il verso Lend a hand, dammi una mano, prestami una mano. Harrison replica sullo sfondo arm, braccio. Lennon giganteggia con leg, gamba. Le sentiamo ancora se ascoltiamo bene il pezzo. E' quasi come se si scrollassero di dosso questo brano. Viene poi introdotta la sezione fiati. McCartney canta le parti, George Martin trascrive, la sezione registra. Una parte così bella e iconica che nessun brano rocksteady ne presenterà mai una simile. Paul McCartney sovrincide una chitarra acustica in rosso oltre la soglia della distorsione. Qualcosa che un tecnico preferisce non vedere e non sapere e doppia le parti di basso. Se una canzone portasse in sé il karma del momento in cui è stata registrata, chi ascolta Obladio Blada dovrebbe uscire per la strada e prendere a pugni il primo che passa. Invece è diventata un'aria festaiola che tutti conoscono sin da bambini. E benché ci fossero nell'aria canzoni precedenti a questa che furono costruite sulle vare come ad esempio Yes Day Man di Chris Andrews uscita nel 1965, Obladio Blada fu l'ennesimo esperimento beatlesiano nel coniugare mondi mai avvicinati prima come la musica giamaicana e il rock pop o qualsiasi cosa fosse la musica che i Beatles suonavano. Addentriamoci ora nel testo della canzone. Un quadretto idilliaco in cui due personaggi inventati Desmond di chiara derivazione giamaicana ha un banco al mercato Molly, una lei e la cantante di una band. I due si incontrano pochi convenevoli e passati un paio d'anni ci sono bambini che giocano nel cortile di una home sweet home una casetta che insieme hanno messo su. I bambini aiutano dando una mano al mercato o un braccio o un piede secondo la stupidità contagiosa di Harrison e Lennon Molly passa da casa per rifarsi il trucco perché la sera avrà un concerto con la sua band. Improvvisamente succede qualcosa di insolito ma non nella storia bensì nel testo proprio. In una strofa successiva è Desmond che stays at home and does it pretty face e nella sera she's a singer with the band cioè si rifà il trucco e conseguenzialmente la sera lei canta in una band qualcosa non torna. McCartney spiegò che presi dalla foga delle registrazioni commisero un errore e decisero di lasciarlo semplicemente così. Si sono spese pagine per questa inversione sessuale dei ruoli all'interno di Obladi Oblada e la spiegazione che da McCartney è troppo semplicistica. Gli crederemmo sessentissimo nelle canzoni Desmond stays at home and does her pretty face invece ha coniugato anche il possessivo ci dice his pretty face io credo che le ragioni profonde di questa inversione si trovino in un'intervista del 1966 i Beatles sono schierati di fronte ai giornalisti americani a Los Angeles e in occasione dell'uscita del loro disco Revolver il Time Magazine aveva tramite un articolo che voleva fossare la pop music asserito che Day Tripper fosse una canzone su una prostituta e Norwegian Wood parlasse di una lesbica la domanda che viene posta al quartetto è quale fosse l'intento dei Beatles nello scrivere questi brani un geniale McCartney solitamente più posato parte dritto beh volevamo scrivere canzoni sulle prostitute e sulle lesbiche tutto il pubblico della conferenza scoppia in una sonora risata Lennon è al suo fianco visibilmente nervoso passano altre domande e un giornalista chiede qual è stata la vostra ispirazione dietro a Lennon Rigby Lennon dice serissimo two queers e la risposta che nessuno si aspetta e scoppia di nuovo una fragorosa risata io credo che l'errore possa esserci stato in Obla Di Obla Da magari in una delle innumerevoli prove precedenti poi è stato perfezionato e coniugato ambiguamente con il possessivo his per far impazzire i giornalisti allora possiamo tornare al karma di questa canzone un brano originato da Jimmy Scott forse ganese forse nigeriano forse vecchio forse giovane un brano che dovrebbe essere una fotografia della musica giamaicana ma che per Lennon suona come una Granny Sheet of Paul col piano della nonna o forse da Saloon un brano in cui Desmond è un lui ma forse è una lei un brano conosciutissimo e odiatissimo allo stesso tempo in cui tutto può essere qualcosa o la sua possibilità opposta un Enten Heller un Obla Di Obla Da e la vita continua fratelli quando molti anni dopo gli Offspring decidono di copiarne spudoratamente l'incedere e l'ispirazione finiscono per mettere a segno il brano più conosciuto della loro intera carriera e l'ospite di oggi di B-Tales è un vero e proprio raccontatore di storie non come il sottoscritto il music teller per eccellenza Federico Sacchi sono veramente molto contento di averlo con noi ciao Federico ciao Gigi grazie dell'invito grazie a te di aver partecipato il nostro programma come ben sai si articola sul fatto di raccontare ogni giorno una canzone dei Beatles quindi un'impresa che capirai titanica tu hai affrontato il racconto sui Beatles tempo addietro e volevo chiederti più che altro l'esperienza è impossibile riuscire a sviscerare nel tempo di due ore una storia dei Beatles come è stato per te l'approccio con questa mole di informazioni veramente veramente importanti allora i Beatles sono uno dei gruppi della storia della musica pop che è stato più studiato in assoluto sono stati uno dei primissimi gruppi di cui è stata scritta una storia giorno per giorno come ben sai tu lo avrai visto ci sono davvero tantissime cose scritte sui Beatles quindi sono stati praticamente da subito argomento di studio vero e proprio la mole è enorme secondo me l'unico modo per i Beatles è quello di approcciare un aspetto cioè porsi una domanda raccontare la storia dei Beatles è praticamente impossibile quello che si può provare a fare è prendere un aspetto della loro storia o della musica popolare in genere o di quello che è stato il loro impatto sulla cultura del ventesimo secolo e andare a sondare quello quando io me ne occupai decisi di rispondere alla domanda perché i Beatles sono la band più importante del ventesimo secolo poi anche qui è vero o non è vero io quel racconto lo chiamai Beatles Revolution come cambiarono il mondo cioè perché hanno cambiato così tanto il mondo della musica la risposta che mi sono dato dopo avere scartabellato lungo essermi spaccato la testa per qualche mese è stato i Beatles non hanno inventato nulla ma sono stati degli straordinari ricettori e antenne di quello che stava succedendo nel mondo in quel momento lo hanno assorbito e fagocitato a un pubblico che diversamente non sarebbe mai entrato in contatto con tutte queste musico queste influenze a cui loro hanno attinto pensiamo alla musica indiana la sperimentazione i primi sintetizzatori gli esperimenti con i nastri e via dicendo quindi hanno non hanno inventato nulla ma sono hanno rivoluzionato tutto prendendo cose che avevano fatto gli altri intuizioni di altri e così hanno cambiato tutto poi in realtà l'invenzione non esiste ma è sempre una rielaborazione di quello che è qualcosa che è stato fatto in passato ma qui andiamo nella filosofia io ho fatto le scuole basse quindi non sono in grado di darti una risposta assolutamente dopo il tuo intervento io posso appendere i miei racconti al chiodo e boh chiudiamo Barack Burattini dopo Federico Sacchi non passerà più nessuno invece che ti volevo chiedere e se puoi darci un'anticipazione sulle cose sulle storie che andrei raccontando prossimamente te lo chiedo uno per una curiosità personale e del pubblico e due perché magari metteremo di seguito una canzone che ha a che vedere con ciò che ci racconterai nel prossimo speriamo futuro allora sto lavorando a due cose principalmente uno è un progetto piuttosto complicato che si chiama Disco Podcast e quindi è un ciclo di podcast musicali saranno quattro podcast usciranno tra aprile e maggio e in questo momento si è appena conclusa ma se i vostri ascoltatori lo sentono non c'è problema lasciamo aperta la porta ben volentieri una call in cui chiediamo alle persone di raccontarci la loro storia di musica cioè hai un aneddoto personale legato alla tua vita legata a un disco un artista una canzone me lo racconti e io partendo dalla tua esperienza personale vado a raccontare la storia di quell'artista di quel disco di quella canzone e un contesto hanno partecipato già tantissime persone quindi mi trovo nella bruttissima posizione di dover scegliere questa storia invece che l'altra speravo che ne arrivassero dieci così e vabbè tu sì tu no e invece qua siamo arrivati per superare le cento storie e quindi inizia a diventare un pochino problematica quasi come la storia dei Beatles ti sei ritrovato nuovamente esatto esatto e poi sto lavorando a una cosa sulla musica somala tra gli anni settanta e gli anni ottanta consigliaci quindi un brano di un musicista somalo cerca qualcosa della Dur Dur Band perfetto grazie Federico sei stato grandissimo grazie grazie a voi buoni Beatles i Beatles non fecero mai uscire Obla Di Obla Da come singolo il gruppo si oppose a McCartney e i Marmalade ne approfittarono toccando i vertici delle classifiche nel 1969 con il brano dei Beatles diventando il primo gruppo scozzese a finire primo in classifica è una versione più scarna dell'originale molto diretta la sezione fiati fa da contrapunto con meno note tutto è ridotto all'osso e la canzone funziona benissimo ma mi preve farvi ascoltare la canzone dei Ribelli citata anche da Jacopo Tomatis che abbiamo avuto il piacere di avere ospite in una puntata i Ribelli primo gruppo di Adriano Celentano quando la sua carriera prosegue alla voce troviamo un giovanissimo Demetrio Stratos Mogol fiuta l'affare ne fa una traduzione in italiano potendo così godere dei diritti della trasmissione del pezzo in Italia allora le leggi sui diritti funzionavano così nesce un ritratto di Desmond e Molly che testimonia una ritrosia culturale che sconfina nel puro trash Molly non finirà la canzone cantando in una band ma stando a casa col bambino così l'ambigua Obladi Oblada finisce per generare la sua stessa antitesi attraverso la penna di Mogol e la voce dei ribelli in una canzone che diventa famosa per la sua semplicioneria retrograda altro che Beatles un saluto da Beatles scritto e condotto da Gigi Giancursi che ora va a rifarsi il trucco prima di cantare questa sera in una band grazie a tutti